Noi abbiamo appurato in commissione di garanzia e anche negli uffici preposti che 4 impianti su 5, gli impianti sportivi dati in concessione al privato, sono totalmente privi dell'agibilità. Inoltre abbiamo un comune nel caos più totale, poiché il presidente Team in prorogazio è ancora Cantagalli, poiché pare che il nulla osta da parte del Tribunale di Termo per il nuovo presidente D'Antonio non ci sarà. Quindi un'altra volta si rimescoleranno le carte e ancora la Team sta aspettando un nuovo presidente. Gli uffici della Cancelleria e del Tribunale abbiano vietato il nulla osta al trasferimento di D'Antonio dal Tribunale di Termo alla Team, poiché sicuramente in base agli ultimi tagli, sia a livello nazionale per quanto riguarda la giustizia, sono sotto organico e quindi non potranno dare D'Antonio come presidente Team. Per quanto riguarda il tema delle tasse e degli sprechi, in campagna elettorale è stato detto che andava tutto bene, invece adesso i cittadini si dovranno trovare a pagare sia la tari, quindi la tariffa sui rifiuti, sommata alla nuova Tasi. La Tasi che va comunque a coprire dei costi del comune, che non sono stati tagliati quando era il tempo, infatti per esempio la Tasi va a coprire l'energia elettrica del comune di Teramo, e noi sappiamo che l'energia elettrica è andata aumentando negli anni e adesso siamo circa a 2 milioni e virgola 4 all'anno. Questi sono costi che Brucchi metterà sopra le tasche dei cittadini. Il sindaco non ha operato i tagli che doveva per far veramente risparmiare tutti i terramani. Il comune per sostenere comunque questi sprechi che sta continuando a fare, taglierà i servizi essenziali al cittadino. Ad esempio loro da gennaio già vogliono tagliare il servizio scuolabus, hanno intenzione di tagliare completamente il servizio scuolabus. I buoni pasti aumentano, mentre dall'altra parte invece si prevede la continuazione per quanto riguarda l'assunzione di un dirigente e altri impiegati amministrativi. Quindi da una parte si assumono nuovi dirigenti e nuovo personale comunale, e dall'altra si aumentano i buoni pasti da 3,60 euro a 4,40 euro. Daremo una dura battaglia sia nel question time che nel consiglio del 21 ottobre dove si discuteranno le nostre emozioni, ad esempio la restituzione e l'esarcimento per le famiglie che non hanno soffruito di quei 4 giorni del servizio scuolabus.